Ciao raga! Woooo! Benvenuti in questo nuovissimo video dove faremo la Secret Challenge Volevo fare quella che faceva nell'intro dei video tutta una Ma con loro non è possibile perché uno si fa i fatti suoi l'altro sta mollando delle puzze allucinando La mamma sta mollando delle puzze Perché no, io non mollo le puzze Dai no raga, veramente Facciamo i seri per quanto sia possibile Fare i seri Ma ti aspetta che la mamma deve stare a leggere Ma questo ti dici? Ma tu puoi essere più piccolo dove sei stato da mia parte Smettete di tirarmi i calzini Cominciamo a fare Ma bene Gata mia! Mi serve, mi aspetta! Mi serve, mi neve Le devo copiare! Ok, allora Premettiamo che Thomas ha il raffreddore Si vede Ho febbre anche Un po' di febbre ieri Quindi saremo un po' Però siamo più carichi del solito Perché solo i miei figli quando stanno male Rompono le scatole di più? Ah, è blucce! Allora Vabbè, iniziamo Iniziamo a fare Thomas Ti metti dritto Iniziamo a fare la challenge Allora In cosa consiste la challenge? Se qualcuno di voi ancora non lo sapesse In realtà ce l'avete detta a voi Suggerita a voi Quindi teoricamente lo sapete Però allora vogliamo spiegare Tanto loro due si picchiano Comunque Sono disperata ragazzi Basta Basta un giorno più Faccia via Allora Alessio spiegherà in cosa consiste questa challenge Lo dico io Dillo Di un segreto facendo così Io dirò un segreto a te E tu dovrai ripeterlo Io ti terrò la bocca chiusa E vediamo se voi riuscirete a scoprire il segreto qual è Iniziamo Io do a lavare le mani Inizia a lavare le mani Si perché non ci ho spesso Giusto Voi avete lavato le mani? Si Dai Ale Dai Ale No ti vai a lavare le mani anche tu adesso Non fare No perché Ragazzi Ma non tanti io No bello bello Facciamo che tu ti tappi le bocche da sola No non tante Guarda Ma c'entra Ragazzi è una scena che Fortunatamente vi siete persi E non dico altro Va bene Venite Dai Forza Allora iniziamo Vieni Dai vieni qua Che facciamo i segreti insieme Vieni amore Vieni Vieni No ragazzi Io non so Ciao amore Ahia male Allora Scusate Ma qui non si respira Ok Scendi Mamma Basta Iniziamo Da me Basta Lì Lo tengo Iniziamo da me No Inizio io Dico il segreto Allora Aspetta Devo pensare Il segreto Ma io non ho Il segreto Anche io Tu si Anche io Ok vado Davvero matematico Rimasto scioccato No io te lo devo tenere Alla bocca Tu devi ripetere Tutto quello Che ho detto Con la bocca Taffata Aspetta che vado Tutta al naso Così respiri Via Avete capito? No No Ti ho sentito bene Non lo puoi ridire Però è Il mio segreto Non si fa Ho capito Io Ho capito Non lo puoi ridire Non lo puoi ridire Quelle Non lo puoi ridire Sì hai capito? Avete sapi Capito? Se avete capito Scrivete nei commenti Non si fa Mamma Te lo dico io a te Vai No te lo dico io a te Io a te No no Dopo io a te Mi rifiuto di dire una cosa così Va bene Sì sì Certo No Mi rifiuto di dire una cosa così No La mano è pulosa Mamma Te lo dico io a te Te lo dico io a te Sì 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 No Tantai hai de chistare un poema è vero io lo so vai Thomas è avanzato scuola e si è nascosto dal nonno è schifo io non ho capito e spero di non aver capito posso dirlo? posso dirlo? posso dirlo? no ognuno ha capito dai spero di non aver capito però sono veri queste cose te te non ce l'hai neanche cazzo no io ce l'ho io ce l'ho ce l'ho ho capito mamma è vero io non ho capito ci giuro non ho capito Thomas che è avanzato a scuola sei la scuola della mamma tutta la mattina e poi quando non ho scorsa ma quando? non ho scorsa no quando te non c'eri hai nato in a rum e poi quando era a rum mi sono vestito col gioco e sono andato fuori sono andato ma quando? abbiamo entrato la tecnica noi abbiamo detto alla nonna stiamo sancionate a scuola in verità l'ho nascosto nel letto poi si è nascosto tutta la mattina dalla nonna si è vestito all'uno è uscito di casa ed è rientrato in casa sono andato alla nonna l'anno scorso quando vuoi non ce l'avevate era mattina oh sono ascioccata ragazzi te stavo con te lo ho detto io lo ho detto io no mattia si lo ho detto io dai vado a vedere è una bella mora ma dov'è? è una bella mora ma dov'è? è in giardino è una bella mora di chi è questa macchina? è mia è la Range Rover è andata dove andata? faccio un giro nooo nooo è molto più bella amor dai la mia Range va beh è partita vabbè meglio una macchina nuova che una mamma nuova cosa dite? no era meglio la mamma nuova? brutto la macchina è nuova di occhio brutto vado a fermare tu preferivi la mamma nuova o la macchina nuova? no amore tu si che mi ami vabbè dai è bella è bella è bassina però è bella guardate come la lustra bene quindi finita la nostra challenge possiamo andare a farci un giro si vamos dove andiamo? dove Cipotti? ho vinto la challenge andiamo a chiamare anche Thomas dove Cipotti? dove Cipotti? dove Cipotti? oh a fare un bel viaggio che viaggio Cipotti a fare? eh è un segreto è un segreto è un segreto è un segreto? ciao 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 ciao